Da 26 anni è la canzone più ascoltata a Natale, All I Want For Christmas Is You, Paolo Sommaruga. All'inizio non la voleva incidere, le canzoni di Natale le fanno i cantanti anziani, pensava. 26 anni dopo, Mariah Carey festeggia l'ennesimo primo posto in classifica. La cantano tutti, è semplice e appetitosa, dice lei. Non voglio regali, non voglio sorprese, messaggio chiaro, All I Want For Christmas Is You, troppo? No, in tempo di abbracci mancati, di distanza, di effetti lontani, ci fa sentire un po' meglio, isolati magari, ma non soli. E con questo è tutto.